Questa mattinata, in cui veramente vi ringrazio per essere presenti, perché sono uscito di casa nella sensazione che mi chiedevo per quale motivo, oltre per il fatto di aver preso questo impegno, io dovessi di sabato mattina, questa giornata un po' freddolina, però evidentemente c'è interesse attorno a un argomento che io mi occupo dei contenuti in generale di IF per conto di Elita, che è un'entità composta in maniera strana che ha sviluppato insieme con ADC e Assocom questo progetto IF con cui siete da tre anni, e parlando quest'anno dei vari argomenti, il tema generale come sapete della manifestazione quest'anno è no show, no business, quindi il mondo dei pubblicitari e dei creativi ci tiene a dire che se non si va verso una spettacolarizzazione del contenuto, girano pochi interessi e quindi girano anche pochi risultati economici e mi hanno chiesto a un certo punto come facciamo a raccontare quello che secondo noi è un dato importante e rilevante, cioè lo sviluppo, c'è un focus sulla città che ospita il festival dal punto di vista della creatività, ma fuori dagli argomenti che possono interessare il mondo della pubblicità. E quindi io ho detto, secondo me, il primo anno avevamo parlato di Expo, ovviamente, anzi sì, il primo anno avevamo parlato di Expo che sarebbe arrivata, l'anno scorso abbiamo fatto un giro invece sui media e sul fenomeno dei blog, della nuova editorialità qui a Milano sul basso e quest'anno invece ci soffermiamo su un altro aspetto, di questa rivoluzione che in maniera credo evidente sta trasformando questa città in una città che si sta imponendo anche a livello internazionale, ancora l'altro giorno, anzi due giorni fa, un regista di cui non ricordo il nome, ma mi dicevano tutti che era molto importante, ha detto che si vuole trasferire a Milano perché la vede vivace e ieri un artista che si è esibito per IF in Santeria, che oggi purtroppo non ci sarà perché c'è stato un lutto interno alla struttura, quindi hanno declinato l'invito, un ragazzo neozelandese che vive a Parigi, che è lanciatissimo sul mercato internazionale, ha detto ma questa città spacca, è una città che ha le caratteristiche in questo momento per imporsi. Uno degli aspetti che a mio avviso fa la differenza in questo momento tra Milano e sicuramente il resto d'Italia, ma anche probabilmente su un base internazionale, questa attenzione che è stata posta negli ultimi cinque anni, che vediamo anche rinnovata, nei pochi mesi di, io vado un po' su questo tema, mi riferisco anche alle ere politiche, quindi cinque anni in cui c'è stata una politica precisa, che era quella di utilizzare degli spazi, non in maniera generica, non per una valorizzazione meramente economica, ma sì per una valorizzazione economica, solo che attraverso un contenuto nuovo, che è il contenuto della creatività, che qui cercheremo di tirar fuori con delle persone, degli amici, dei colleghi con i quali si è fatto un percorso. Facciamo un piccolo giro anche di autopresentazioni molto veloce, cominciando da Costantino. Ciao a tutti, stavo tentando di twittare ma è molto presto. Vuoi passare la parola a Valentina a twitt? No, 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 ce la faccio. Io sono Costantino, buongiorno, sono uno dei cofondatori di uno dei fab lab, dei makerspace di Milano, si chiama WeMake, abbiamo aperto due anni fa, basta così. Siete a Nolo, giusto? Siamo a nord di Nolo, siamo a nord di Nolo, abbiamo parlato tutta una sera di questa stupidaggine di Nolo, nord of Nolo, abbiamo aperto in zona Gorla perché abbiamo fatto una partnership con un co-working che c'era lì prima di noi. Siete uno spazio che però abbiamo invitato non intanto per raccontare il mondo dei fab lab in generale, ma perché io sono rimasto impressionato quando avete cominciato a comunicare tutte le attività che all'interno di quello spazio sono aperte, attività di formazione, attività di costruzione di rete, attività anche banalmente di focus su alcuni argomenti. C'è uno spazio che non nasce per dire siamo quelli fighi, siamo i maker, però ci chiudiamo la porta dietro, noi lavoriamo per le aziende e non condividiamo. Siete uno spazio invece, mi sembra di capire, aperto, che getta dei ponti verso l'esterno, che si propone con una programmazione di attività. Sì, abbiamo iniziato a fare questo tipo di attività prima ancora di avere lo spazio, un po' come è successo anche ad altri. Abbiamo iniziato a fare un'associazione nel 2011, abbiamo costruito un evento che riguardava le tecnologie, tipo il 3D printing, portate a un livello non per specialisti, anche se l'abbiamo fatto all'interno del sonno del mobile e anche se all'interno del sonno del mobile in quell'anno non c'era ancora niente che parlava di 3D printing. però l'abbiamo fatto in una maniera super inclusiva, tentando di essere il più possibile inclusivi, perché secondo noi dall'ibridazione viene fuori qualcosa di nuovo e non solo dal parli del progetto era in fabbrica del vapore se non sbaglio, era quello lì o era un altro? No, no. Che siamo conosciuti da poco in realtà, quindi passato? No, le prime cose le avevamo fatte, le facevamo proprio in giro per la città, quindi andavamo a trovare, a occupare temporaneamente degli spazi per degli eventi, mentre cresceva la gestazione del progetto, quindi dal 2011 al 2013, a fine 2013 abbiamo trovato le condizioni e abbiamo preso casa, in questo laboratorio in realtà abbiamo... E' uno spazio privato, giusto? E' uno spazio privato, sì. E' uno spazio in cui non c'è la dinamica che invece ritroveremo per gli altri spazi anche di una partnership, di luoghi magari pubblici che sono stati assegnati, quindi in questo caso parliamo di uno spazio totalmente... Sì, era uno spazio artigianale, sfitto da qualche tempo, che era comodo proprio perché era vicino al co-working con cui abbiamo fatto questa partnership. Ok, vale. Poi se vuoi, visto che ovviamente non abbiamo fatto un briefing alle 9.30, ma ci siamo visti alle 10.44, perché almeno questo... Se ovviamente vi invito, come ha fatto Andrea, se ci sono delle... Non so, volete far vedere dei video che sono online, perché invece di dire tante parole volete far vedere qualcosa, basta dirlo, lo cerchiamo. Valentina, invece, è qui per parlare di base, giusto per almeno rinchiudere... Deve lo ricordato perché quest'era che stava su mattina... Ti stavi scordando. Poi con la calda Andrea Capaldi che evidentemente ha già fatto tutti i compiti, è sempre il primo della classe e qua diventa difficilissimo. 50 pagine di slideshow su... Base Milano è un hub, noi lo definiamo un creative and community hub, perdonatemi l'inglesismo, ma solo perché siamo riduci dalla partecipazione a un network internazionale che ci ha dato qualche... ha risposto alle domande che ci ponevamo rispetto alla nostra definizione, allora, insomma, sono contenta di comunicarlo in questa maniera. è nell'area Ex-Ansaldo, che è un'area che per tantissimi anni, dal 1989, ha cercato una vocazione in città perché era occupata per una... intorno al 40% con i laboratori della Scala, del teatro La Scala, e per la restante parte invece era abbandonata. negli ultimi anni, grazie all'inaugurazione del MUDEC e grazie alla nostra inaugurazione, in realtà meno di un anno fa, il 30 marzo del 2016, ha ripreso vita, è bello vederla riprendere vita ogni giorno, però è incredibile invece anche rispetto per esempio al tema pubblico privato, rileggere un po' adesso, insomma, non a percorso compiuto, però a percorso in corso e ancora con degli spazi da assegnare molto importanti all'interno dell'area, vedere che... è incredibile vedere la lungaggine anche del dibattito pubblico, insomma. Per fortuna adesso quando si cerca Ex-Ansaldo, su Google appaiono cose un po' più interessanti degli immobili dismessi, però se si va un po' indietro, sempre un po' più indietro, per fortuna, nelle ricerche invece compare questo lungo dibattito che è stato relativo all'area. Voi siete dietro base, c'è una famiglia di realtà, che hanno partecipato a un progetto, a un bando dell'amministrazione comunale, com'è composta la vostra famiglia di... Una famiglia molto contemporanea, quindi come tutte le famiglie contemporanee, una famiglia che si vuole molto bene. o ce ne sono due? Ce ne sono tantissime mamme, tantissime mamme, tantissimi papà e anche qualche amante. Ovviamente. E tantissimi figli, naturali acquisiti, eccetera, eccetera. Siamo cresciuti come nati, come un partenariato, che già fa ridere, nel senso che eravamo più un gruppo di persone che aveva voglia di portare le proprie organizzazioni a fare un passo in avanti su quello che poi è diventato questo hub creativo. Questa ATI, associazione temporanea di imprese, era, è composta da due soggetti no profit, che sono l'associazione culturale Aprile, meglio conosciuta come Sterni, quindi per esempio gli organizzatori del Milano Film Festival, Arci Milano, subito non mi saperemo solo perché è la più conosciuta forse delle cinque, e HPU, altri tre soggetti invece, Profit, HPU, che è una società di produzione, quindi forse per il pubblico di ife è più conosciuta come Hfilms, credo che si chiama. Sì, la sorella di Hfilms. La sorella di Hfilms, che è una società che per intenderci è quella che produce anche in partnership con altri soggetti Book City, è un pezzo di Piano City, quindi fa anche operazioni appunto di progettualità diffusa, pubblica e temporanea. Perfetto. Adesso devi dare la definizione per tutti gli altri, se non sembra che hai delle preferenze. No, perché secondo me Arci lo sanno tutti, esterni dovreste conoscere, insomma sono la realtà più, tra l'altro loro dopo anni in cui si lamentano di avere spazi, qui ne hanno già due, fermiamoli perché sennò pigliano tutto loro. È l'associazione che produce il Milano Film Festival, che forse quelli che a Milano per primi hanno introdotto anche una politica di rapporto tra il sociale e il culturale di forte impatto, anche numerico. Soprattutto rispetto all'utilizzo dello spazio pubblico, che forse è uno dei temi che tutti approcciamo in maniera, non primaria ma secondaria immediatamente direi. Arrivò al quarto dei nostri fratelli, Avanzi, che è una società che si occupa di consulenza in abito di responsabilità sociale e di impatto per il mondo profit. Detta anche incubatore? Si autodefiniscono così o no? No, perché è MecaCube quello. Avanzi, che tra le altre cose gestisce, potreste conoscere il bar a un co-working in zona Città Studi, in Bianper, con l'Upcycle Cafè. E infine MecaCube, che è l'incubatore a sua volta, fratello, figliolo, non so, di Avanzi. Che è una SPA, io quando ho visto che Avanzi è una SPA ho detto, cavolo, c'è qualcuno che nel nostro settore riesce ad avere l'ambizione e a fare il lavoro anche in una forma giuridica così impegnativa. Un po' ambiziosa, sì. Questi cinque soggetti, tra loro molto differenti, però con competenze molto complementari e tutte necessarie rispetto al progetto che volevamo fare assieme, hanno dato vita a Unati, che è uno proprio giuridico, ovvero una serie di, si può dire, una serie di soggetti che si mettono assieme per uno scopo. In realtà non è uno proprio giuridico nel momento in cui si fa per un progetto molto breve, diventa una cosa invece poco gestibile quando si fa per un progetto più lungo, perché non è molto normato. Perché il progetto base ha una durata di 12 anni, giusto? Tu come hai scritto sul tuo post, però fra una decina di giorni di qualche anno in più, ci arrivo perché dovremmo arrivare a 18. Hanno dato vita, questa è la cosa interessante che volevo raccontarvi, a un SRL, impresa sociale. Vuol dire che abbiamo scelto una forma leggera dal punto di vista gestionale, perché quello che andiamo a fare richiede una procedura a volte abbastanza snelle nei processi decisionali, anche nel rapporto con le banche, eccetera, era più comodo avere una struttura snella, ma dall'altra parte abbiamo scelto di fare un soggetto no profit. No profit è una definizione piuttosto, non esplicita bene quello che è stata la normativa dell'SRL, impresa sociale, perché in realtà vi sono tutti degli elementi di natura sociale, di impatto sociale relativi al rapporto, per esempio, con i propri dipendenti, al rapporto con il territorio, all'impatto, quindi abbiamo scelto una forma giuridica a suo modo anche sperimentale. In attesa che si decidano a fare questa benetta legge che definisce l'impresa culturale, è un po' il punto di approdo di un po' tutti, scusate se entriamo nelle galese, ma oggi parliamo di cultura da un punto di vista in cui non si parla mai, perché piuttosto che farvi vedere tante belle immagini, dovremmo cercare di capire, quel capitale creativo sta per un tentativo di valorizzazione, quindi parliamo un po' di forme giuridiche per farvi capire anche qual è l'ambito in cui con tanta difficoltà ci si muove in questo settore, quindi spazi privati, gestiti, voi siete una SRL, tante realtà diverse che vanno da un'SPA a un'associazione di associazioni come Arci, bla bla bla, che creano un soggetto giuridico nuovo, quindi un nuovo ente che decide di essere un ente che si muove nell'ambito del non profit, però in realtà svolgendo praticamente attività commerciale come un SRL, perché un'impresa sociale non altro che un SRL che non può dividere gli utili perché è il suo obiettivo e che accede pertanto a tutta una serie di condizioni, non sempre agevolazioni, diciamo, specifiche di settore. Adesso più limiti che agevolazioni. Perché poi il problema è quello lì, che poi quando parli con i legislatori loro dicono ok, facciamo questa roba a favore di, e poi si accorgono che se lo fanno in Italia tutti si buttano su quello e magari erodono, diciamo. Però questi sono discorsi, dai, lasciamoli, siamo partiti bene. Ci siamo invece incontrati con Isa qualche anno fa in questo posto, era appena partito il progetto Sunday Park, se ti ricordi, era appena stata nominata la Giunta e ci siamo conosciuti perché era partito da parte di Isa, del mondo che rappresenta, un progetto molto molto interessante che era, come dire, il tentativo di mappare, scoprire, per poi valorizzare i luoghi abbandonati della città di Milano e in particolare tentando di immaginare in alcuni luoghi proprio quello che poi in realtà stiamo raccontando oggi come è accaduto, quindi questa è una giornata in cui raccontiamo una storia comunque a lieto fine, qualche volta entreremo un po' nella critica, nel dibattito, ma cinque anni fa, la verità è che cinque anni fa a Milano tutti questi spazi, questi luoghi non esistevano e in cinque anni comunque una città che apre poi vedremo quanti metri quadri, quanti dipendenti, con che budget complessivi queste realtà si muovono diciamo che voi avete dato una spinta importante all'epoca proprio per orientare la giunta appena insediata verso una politica di riuso degli spazi che vi ha portato voi diciamo anche ad essere in questo momento gestori, non so come si può definire il rapporto, anche gestori di uno spazio ma più in generale con l'esperienza di chi ha mappato e ha creato anche su base nazionale insomma tutto un lavoro di ricerca che ci puoi raccontare. Posso dire una cosa, che questi progetti non esistevano cinque anni fa e non sarebbero potuti esistere, questa è la grossa differenza, che non sarebbero potuti esistere. Va bene, questo è la mia opinione. Te lo concedo, te lo concedo. E speriamo si moltiplichino. Intanto grazie per questo invito, è bellissimo stare oggi anche se sabato mattina, dai a parlare di queste cose perché da energia. Da energia, è un caffè diverso. Sì, nel senso sono Isabella Inti, architetto urbanista, qui racconterò magari due esperienze. L'esperienza di Temporiuso che è l'associazione culturale con cui abbiamo dato avvio nel 2009 a questa ricercazione sul riuso temporaneo di spazi in abbandono a Milano ma anche in Italia e in Europa e anche rappresento, sono presidente di questa rete di associazioni ad Asteca. Per cui dopo arricchierò anch'io con tutte le filiazioni delle varie associazioni il racconto magari su uno spazio che gestiamo che si chiama Asteca 3.0. Che è? Allora, Asteca 3.0 è in quella parte di città a confine tra quartiere e isola e la grande trasformazione dell'area Porta Nuova. Si chiama Asteca perché era... Si chiama Asteca perché la Asteca era la vecchia fabbrica Brown Boveri, 5.000 metri quadri, che avevamo richiamato Asteca degli artigiani perché era appunto un edificio lungo come una Asteca. Dopodiché dalla sua demolizione, e questo mi piacerebbe appunto parlare oggi, il tema del fare spazio e dare spazio è, come dire, parlare di contenuti e di contenitori. Talvolta, come si è detto anche prima, si costruiscono prima i contenuti e si cercano dei contenitori. Talvolta, grazie a un contenitore, inizia ad arricchire di contenuti, poi ti accorgi che potresti forse anche spostarti da un'altra parte, con enorme sofferenza talvolta. Ma è molto importante perché il capitale creativo di cui si vorrebbe parlare oggi forse è composto da tanti pezzi di capitale, siamo, come dire, costretti sempre a subire molti, come dire, discorsi di capitale economico, ma esistono altri capitali. Capitale sociale, mi verrebbe da dire, è molto importante. Sì, sì, però oggi non si parla di tutta quella roba lì, ma solo di quel pezzo. Capitale dell'innovazione, capitale economico, insieme fanno capitale creativo. La verità è che, sai, noi qua siamo in un festival che fa comunicazione, io sono convinto che noi dovremmo parlare di queste cose tra di noi, cercando chiaramente di tirar fuori, soprattutto attraverso quello che facciamo, il senso di quello che stai dicendo tu, però mi sono reso conto che non c'è abbastanza condivisione sulla questione invece del business legato. Business è una parola orribile per me, però dà il senso, come fanno solo gli inglesi Sanfare, di cosa stiamo parlando, loro hanno anche un'accezione neutra rispetto a questo termine. Diciamo che molti riconoscono, e si deve riconoscere chiaramente, il valore di impatto culturale e sociale a progetti come questo, ma si deve cominciare anche a mettere in chiaro e in luce quelli che sono gli aspetti più tangibili, se volete. Si parla tanto di rivoluzione attraverso il riuso degli spazi, di rivoluzione proprio di modelli cittadini e urbani, però la vera domanda di sottofondo è, funziona a livello economico? È sostenibile spostare il baricentro di una città come Milano, abituata ad essere una città dell'industria, una città dei servizi, addirittura arrivare a spingersi fino a dire buona parte dei servizi devono diventare ad alto contenuto creativo, ma questa cosa funziona? Cioè riusciamo ad assorbire personale, a generare reddito, e poi nella logica del non profit non è importante che chi lo genera se lo intaschi in forma di dividendi, però è importante per chiunque, secondo me, cominciare a domandarsi se i risultati concreti ci sono oppure no, perché altrimenti rischiamo di andare in una direzione in cui con la penuria di fondi pubblici che sentiamo, insomma anche io preferisco che ci sia la cartigenica nell'assilo di mia figlia e non che mi finanzi in un progetto di musica elettronica, perché penso ci siano delle priorità, no? Quindi il tema è, ora avete questa responsabilità, oggi cerchiamo di capire come ce la state facendo e se effettivamente questa cosa qui può stare in piedi per diventare un pezzo di un sistema, insomma è impossibile pensare che Milano sia tutta uno spazio creativo e culturale, ma un pezzo che può essere rilevante proprio però a livello economico. Allora riprendo dal riuso temporaneo, uno dei miei due cappelli. Allora sì, quando ci siamo visti qui ancora nel 2012, l'idea per Milano è stata quella di siglare un protocollo appunto in cui il Comune si impegnava a fare delle politiche pubbliche per riattivare parte dei 3 milioni e 700 mila metri quadri di spazi in abbandono. Una cifra 3 milioni, eh? 700 mila metri quadri di spazi in abbandono. Un milione sono gli scali ferroviari, un altro milione sulle caserme, un milione e 700 mila sono tutto quello che in parte sono stati riattivati ma ancora c'è molto da fare. Per cui... Aspetta, in quest'ultima parte si includono beni del demanio e basta, sono solo beni del demanio, cioè non sono inclusi tutti gli spazi, per esempio l'exare industria, non so, mi viene in mente l'Abracco, che sono 50 mila metri quadri di capannoni, sono inclusi. Sono inclusi sia spazi di proprietà comunale che appunto spazi privati. Sugli spazi di proprietà comunale il Comune ha potuto iniziare delle politiche pubbliche grazie appunto delle delibere sul riuso e sul riuso temporaneo, poi in particolare anche alcuni sui giardini condivisi nello specifico, dove sono stati attivati circa 150 progetti, di cui si è poco parlato, perché sono tutti stati poi riattivati nel periodo dell'ex. Perché le buone notizie le persone fanno fatica a ricevere. Molto più facile discutere per mesi se sì o no a referendum, sì o no a Renzi, ma quando ti dicono il Comune ha fatto dei procedimenti che sono sempre molto complessi per assegnare degli spazi che erano di proprietà di tutta la cittadinanza a dei soggetti privati. E in Italia, va detto, non è per niente semplice, cioè non esiste una reale... cioè non è semplice, non è che si sveglia il sindaco, l'assessore dice no, allora a voi mi piacete, lo spazio lì ce l'ho libero, ecco ve lo stiamo dando. Quello di cui sta parlando lei è un procedimento a livello burocratico già molto complesso, perché tutto quello che appartiene al pubblico deve essere valorizzato, cioè deve avere... ecco io oggi potevo essere qui a parlare di spazi se avessi per esempio ho continuato la gestione del Cobianchi che era un progetto un po' fuori di testa molto bello qui ogni tanto quando arriviamo alle 5 del mattino qualcuno mi chiede se siamo aperti ed è difficilissimo per un'amministrazione comunale non solo quella di Milano perché c'è una legge nazionale che dice ok, nei comuni disastrati quando è entrato il patto di stabilità si doveva cercare di far vedere ai tedeschi che le cose sono più o meno in bolla. Quindi hanno preso tutti questi spazi qui e gli hanno assegnato un valore un valore di mercato cioè un valore non catastale neanche perché lì sarebbe stato ancora più semplice. Quando dai un valore di mercato uno spazio per esempio come quello che gestivamo noi in Piazza Duomo 19A 1200 metri quadri il valore di quello spazio è 600.000 euro l'anno di affitto perché si fa metro quadro per valore in Piazza Duomo. Quindi loro per dare uno spazio come quello dovrebbero valorizzare quella cifra lì cioè il soggetto che lo prende dovrebbe almeno dare 600.000 euro. Cosa ha fatto il Comune di Milano? Ha inserito un po' diciamo in una chiave Expo che ha in qualche modo liberato un po' tante idee anche creative di delibere abbastanza creative mettiamola così ma soprattutto si è assunto una responsabilità e ha detto la valorizzazione prevista dalla legge nazionale subisce un'eccezione chiaramente nel momento in cui i soggetti richiedenti sono soggetti non profit principalmente che abbiano anche la capacità di generare quel capitale creativo di cui stiamo parlando quindi immaginando che ok tu prendi in gestione uno spazio ci apri un bar fai una biglietteria ma in realtà stai facendo anche un servizio di sviluppo per la città quindi la valorizzazione che ne so 600.000 euro mi sa che anzi lo so bene il bando con cui il Comune ha segnato lo spazio che gestiamo noi chiedevano 185.000 euro di affitto all'anno ed è uno spazio diciamo abbastanza difficile da gestire però è già molto meno di quei 600.000 euro che rendono impossibile un utilizzo se non per un'attività commerciale ma neanche per un'attività commerciale forse esatto è qualche idea per cui sì questo che stai dicendo è fondamentale ma quante avete fatto poi una verifica cioè oggi di quel milione passa di spazi cioè in termini proprio di numeri di metri quadri l'amministrazione comunale quanto è riuscito a ricollocarne quanto ancora insomma quanti spazi ci sono ancora disponibili oggi a Milano che possano essere oggetto di una nuova un nuovo percorso di questo tipo allora ce ne sono davvero tanti di diverse tipologie da palazzine anche in pieno centro storico o basta pensare soltanto ai piani terra di molte case aler o davvero ancora gli scali ferroviari vogliamo parlarne il grande se vuoi nel senso che ci sono spazi aperti ma anche edifici all'interno degli scali ferroviari intere palazzine già dismesso ovviamente da una decina d'anni per cui vanno rifatti dei controlli soprattutto al tetto che sono le spese più ingenti o all'infrastruttura interne però sono palazzi di pregio lì c'è un problema anche politico c'è tutto un c'è stato un muro all'idea che passasse cioè il comune non può muoversi così la mattina si sveglia e fa le robe deve passare attraverso delle delibere di consiglio in questo caso se avete sentito parlare degli scali ferroviari e ci sono dei progetti bellissimi quello di Stefano Boeri a me piace tantissimo di trasformarlo in una grande ma anche diciamo in generale c'è l'idea che si possa procedere con prendere quegli spazi trasformarli in spazi che hanno comunque un valore commerciale abitativo e chiedere a chi fa le ristrutturazioni di preoccuparsi di fare le aree comune di metterle a verde per intenderci quello che dovrebbe succedere alla fine del processo di Gaio Lenti fai un grattacielo però mi fai il giardino però mi fai lo spazio di servizio però anche il vostro progetto nasce un po' da quel mondo in cui qualche anno fa ci si baricava nella stecca per dire non toglietici questo spazio perché è l'unico spazio della creatività invece ci sono fatti fatti due passaggi addirittura lo spazio è stato non solo ricostruito è stato riassegnato ed è operativo quindi voi siete lì in un luogo in cui quando insomma dieci anni fa era uno degli avamposti di resistenza del mondo della cultura milanese rispetto a un certo modo di operare oggi invece è uno spazio vivo ci siete voi che cosa succede all'interno di Ad Asteca come attività sì diciamo che appunto il contenitore della vecchia fabbrica nonostante sia stato demolito è stato traslato in un nuovo contenitore che per una serie di battaglie vinte è diventata una delibera per salvare il contenuto e non il contenitore se no senza quella delibera noi non saremmo stati ricollocati e anche si è precisato di non essere ricollocati magari a Bovisa ma su quell'area perché quella grande area di trasformazione con un enorme ovviamente fondo di investimento e real estate ha un valore aggiunto proprio per l'accessibilità del futuro parco che forse finalmente dopo 13 anni dal progetto vinto da Petra Bles verrà finalmente realizzato e anche perché i 5.000 metri quadri della vecchia fabbrica secca e gli artigiani sono diventati 5.000 metri quadri di spazi e servizi da ricollocare negli edifici per cui noi siamo uno di questi io mi sono assolutamente perso sul tempo e abbiamo pochissimo tempo abbiamo già pochissimo tempo e dobbiamo compilare questa tabella lascio velocemente la parola ad Andrea se vuoi vogliamo mandare il video che racconta come lo trovo YouTube Mare Culturale Urbano però forse c'è l'audio da qua comincia Mare Culturale Urbano Mare Culturale Urbano è un centro di produzione artistica che nasce nella periferia di Milano ovest a 500 metri dallo stadio San Siro e in due parole vuole essere una piazza una nuova piazza per i cittadini di Milano e una casa e un palcoscenico per gli artisti noi ospitiamo residenze di artisti di teatro musica artivisiva danza e attiviamo contemporaneamente scusate il gioco di parole delle attivazioni urbane che vanno allora sì questo è quello che è il progetto complessivo quindi io lo farei partire magari mentre parlo con l'audio a zero così tanto quindi noi attiviamo delle residenze di artisti e contemporaneamente lavoriamo su progetti culturali a forte impatto sociale con e per le persone di riferimento quello che è il nostro obiettivo è ridare alla cultura la sua missione archetipica cioè e ai luoghi che offrono cultura la loro funzione principale che è quella di essere un luogo di confronto incontro confronto e crescita collettiva di una collettività di riferimento e agli artisti le condizioni migliori per creare per fare le proprie creazioni quindi per seguirli nel loro processo artistico e anche per offrire loro degli spazi giusti dove poter presentare al pubblico le proprie creazioni la cosa più importante per noi è anche la contaminazione contaminazione è una parola chiave perché è importante che le persone si incontrano si confrontino e crescano collettivamente ed è importante che ci sia contaminazione tra le persone negli artisti e tra gli artisti quindi che gli artisti che fanno teatro possano incontrare e vivere e lavorare con persone che sono artisti che stanno producendo invece spettauri teatrali e così via credo che l'altro noi lavoriamo su due spazi una cascina che è la cascina torrette di trenno che è stata abbandonata per anni appunto è uno spazio già aperto utilizzabile funzionale operativo quello che vedete invece è il progetto il progetto in fieri nel senso che apriremo il cantiere nel 2017 e apriremo al pubblico entro il 2018 sono 6.000 metri quadri con due teatri tre cinema studi di registrazione sale per musicisti atelier per artisti visivi una palazzina dedicata alla ristorazione e qua rientra il discorso della sostenibilità come stiamo in piedi chiaramente il food il beverage è una voce molto importante e così come è molto importante il fatto che adesso si vede bene da questa immagine siamo come la dico brutale come un centro commerciale della cultura dove ci sono delle economie di scala c'è una diversificazione sembra un progetto di real estate lo vedete presentato tra l'altro i creativi che hanno realizzato questa campagna mamma fotogramma erano ieri e hanno suscitato molto interesse perché anche proprio l'approccio con cui loro secondo me stanno comunicando se stessi è molto interessante molto professionale diciamo che qualche anno fa avrei detto all'inglese ora direi alla milanese cioè nel senso si può fare progettualità in ambito culturale ed essere anche capaci di comunicarla bene e di essere figli nel comunicarla e poi magari funziona no? io mamma fotogramma li ho conosciuti su un blog che seguo statunitense di roba elettronica li ho conosciuti lì e poi ho scoperto che stavano dietro che stavano qui all'angolo infatti uno dei temi che poteva emergere dalla giornata di oggi io li ho ingannati perché gli ho mandato un brief diverso era proprio quello del costruire rete una delle domande che le avrei fatto ma non la farò ma magari rimarrà un po' nell'aria facciamo un tweet e poi rispondete quando vi decidete di mettervi in rete cioè di creare un'associazione degli spazi milanesi che fanno impresa culturale creativa perché chiaramente le politiche diciamo il bello delle reti è magari anche fare pianificazione perché in questo momento solo questa settimana c'è questo festival c'è a base un altro festival sulle comunità del cambiamento ci sono i design days c'è il design week film festival insomma c'è tutta una quantità di cose che succedono in contemporanea poi Isa ti manda gli inviti e ti dice oggi presentiamo un libro lui ti dice facciamo dei workshop lui ti dice il mio compleanno siamo in 3000 e noi magari qualcosina anche a Milano come lì te la facciamo comincia a diventare anche urgente come dire parlarsi un po' di più io non ho uno spazio quindi non sarò invitato ma almeno tra chi ha gli spazi perché gli spazi effettivamente hanno necessità se non altro perché devono in qualche modo confrontarsi con un tema che è quello del pubblico il pubblico non è infinito al netto che tutti vogliamo aumentare il pubblico dovremmo anche capire come fare per farlo perché al momento mi sembra che il pubblico è molto allargato ma anche l'offerta è molto grande nel mondo della musica si discute del fatto che sì a Milano in questo momento ci sono non so mediamente 30 eventi di track clubbing e live music ogni weekend e questa cosa qui non fa bene a chi investe dei soldi però il tema ovviamente è quello di allargare il pubblico non tanto quello di ridurre allora abbiamo posso passare al mio non Excel al mio numbers velocissimamente allora base quindi la prima sete ho messo in ordine alfabetico turnover annuale che potremmo definire fatturato i miei amici inglesi mi hanno detto no fatturato non è la stessa roba turnover vuol dire che tu ci perda o ci rimetta cioè nelle due voci di bilancio attività e passività qual è quella più alta e di quanto stiamo parlando annualmente grazie per la specifica grazie per la specifica della possibilità di perdita intorno ai 3 milioni 3 milioni forse dovevo editarlo prima lo mettiamo in migliaia di euro Cascina Cuccagna non può rispondere perché assente mare culturale mare culturale urbano adesso un milione e mezzo fra due anni 5 milioni e 7 vogliamo parlare di tra due anni no parliamo di adesso dai poi non lo so facciamo una via di mezzo no non lo farebbero mai 5 milioni e 7 allora dai mettiamo così e diciamo che questa è una proiezione a tre anni quindi tu hai la possibilità di rivedere il tuo dato tra tre anni però quello lì 3 milioni all'anno 5 milioni e 7 all'anno preferisco non pensarci Isa se devo parlare non di altri spazi di riuso temporaneo ma della stecca adesso divido scusate divido le cose allora come dire gestione siamo sui 40 mila più ci sono 6 mila ore di volontariato e più non paghiamo un affitto però mi dite dare una risposta secca cioè il fatturato quando vai ti immagini cioè diamo degli ammontari 40 40 mila all'anno ha compreso il personale tutto no se conto le 6 mila ore di volontariato io non lo faccio sto calcolo al posto tuo dai pensaci un attimo ok va bene we make Milano mi serve proprio la visione generale quello che insomma in un'azienda dicono appunto il fatturato ma in realtà poi il termine più giusto è un po' questo concetto di turnover perché si può anche perdere insomma dei soldi dato attuale quest'anno chiuderò credo sui 350 350 mila 350 mila euro quindi diciamo se vuoi lo costruiamo insieme questo dato però il senso è mi hanno detto una volta saremmo 280 mila ma oh perdone mi hanno detto chi fa cassa varremmo 280 mila ma ufficialmente siamo 40 mila diciamo che a noi interessa questo dato qua siamo cioè sono quattro solo realtà potrebbero essere numeri molto rilevanti perché secondo me Cascina Cuccagna più o meno secondo me è un'entità intorno ai 3 milioni di euro 2 milioni e mezzo forse 2 milioni non hanno il budget complessivo perché sono tante attività e anche Santeria calcolando i due spazi quello di via Novara recentemente aperto in concessione comunale e quello loro di via Paladini beh l'altro giorno alla presentazione parlavano di 30 persone più o meno fisse che ci lavorano e credo un budget anche loro che va intorno ai 2-3 milioni di euro comunque parlando di quattro spazi parliamo di 9 milioni e 330 mila euro che non è un budget diciamo sconcertante enorme ma non è neanche un budget rilevante perché spesso si pensa che no profit vuol dire ah vabbè 5 mila euro e mi fai le ventino invece parliamo di cose il numero di dipendenti fissi cioè quelli proprio in busta paga 8 numero di collaboratori invece fissi quindi anche noi lavoriamo con chi ha la partita IVA perché anche a noi ci costa troppo assumere tutti 5 numero dei collaboratori saltuali cioè quante certificazioni mandate ogni anno quando il commerciista dice avete fatto lavorare X persone dal voucher alla giornata singola il nostro è un dato falsato perché noi abbiamo i contributi dei soci ok per cui abbiamo alcune risorse che noi non attiviamo direttamente ma competenze che prendiamo dai soci che possono fare volontariato all'interno della struttura no che sono già soci cioè avanzi ci fa il bilancio sociale noi riconosciamo ovviamente una quota che non di mercato però come fosse una collaborazione ad avanti quindi mettiamo valorizziamolo in un 8 8 ok i metri quadri di base sono attualmente 6 6 mila diventano 12 mila ma facciamolo sull'attuale qua abbiamo litigato adesso non c'è neanche tempo per riprendere il concetto di sostenibilità abbiamo dobbiamo finire velocissimamente velocissimamente quanto di questi di quanti di questi 3 milioni di euro riuscite a coprire di entrate proprie tra fundraising sponsor bar biglietteria e quant'altro se consideriamo anche gli sponsor è il 100% 100 ok mare culturale urbano Andrea stessi dati numero dipendenti a due anni sì perché è più facile per me parlare adesso 24 dipendenti rispetto ai 5 milioni e 7 rispetto ai 5 milioni e 7 sono circa 70 dipendenti collaboratori fissi è una ventina saranno 20 collaboratori saltuari 200 più di 200 200 metri quadri complessivi dei due progetti alla fine quanti saranno saranno 6.000 più 1.500 7.500 autosostenibilità 90% 92 90% 90 tempo riuso numero dipendenti però è ad Asteca allora noi siamo 4 fissi collaboratori che ancora tutti volontari no 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 diciamo 4 con i voucher 4 con i voucher collaboratori saltuari forse sono più allora quelli saltuari io intendo proprio tanti quanti metri quadri metri quadri 750 5 metri quadri 300 ok ora dovremmo tirare delle somme e diciamo questa cosa qui che noi potremmo chiedere per esempio non so se esistono dei dati no cosa ho fatto manca la colonna dei volontari sì hai ragione manca la colonna dei volontari ma diciamo io parto dal presupposto che quella l'avrei messa diciamo nel concetto dei collaboratori saltuali non so come fare la somma della tabella devo no sto facendo macello contiamo no facciamo così speravo di fare una roba più semplice però dovrebbe funzionare è così che si fa giusto? no devo prendere colonna per colonna i numeri sono sommati ok 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 insomma la cosa importante è che vediate dei dati allora diciamo che in questo momento volendo fare questa primissima indagine e sarebbe bello per esempio che l'amministrazione comunale facesse un'indagine un po' così anche giusto per avere noi abbiamo qui quattro persone che hanno cominciato un percorso da zero sostanzialmente non da zero a livello professionale ma nel senso quando è cominciato il vostro percorso cinque anni fa quattro anni fa quattro tre ecco recentissimamente e generano quelli che sono i dati i metri quadri sono un dato a parte di una piccola media impresa italiana cioè quando arrivi intorno ai 10 milioni di euro cominci ad entrare nel radar di realtà che in altri settori ti fanno scattare la casa integrazione sosteniamo quell'azienda non sei più ecco un piccolino che naviga nel mare del vuoto quindi questo era quello che volevamo raccontare l'abbiamo fatto con solo quattro soggetti di sabato mattina e quindi senza che gli avessi chiesto prima di preparare questi dati quindi mi scuso per l'imprecisione ma spero che il messaggio sia chiaro capitale creativo anche in un settore come quello delle imprese culturali e creative non profit che invece genera questi tipi di dati insomma sono dati importanti non so se volete aggiungere qualcosina volete andare solo a prendervi un caffè magari domande una domanda al volo domande da parte vostra ho sempre paura di chiedere di fare domande da parte vostra perché siamo sei minuti oltre il tempo massimo grazie grazie mille per l'attenzione e l'anno prossimo vedremo di raccontare un'altra storia su Milano grazie a tutti